La Corte d'Appello di Messina ha riformato nella quasi totalità una sentenza di condanna emessa a seguito del rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Patti Eugenio Aliquo. Si è passati da due anni di reclusione, senza pena sospesa, a soli 300 euro di multa in un processo in cui si contestavano originariamente maltrattamenti in famiglia aggravato con violenza fisica e verbale. Questi i fatti. La moglie dell'imputato presentò denunce il 22 gennaio 2021 per fatti accaduti a Gioio Samaria, Capodorlando e Bari, evidenziando svariati episodi avvenuti tra il 2014 e il 2021. L'imputato ha affidato la propria difesa all'avvocato Antonino Muscarà, che effettuando indagini difensive è riuscito a recuperare le dichiarazioni di quattro testimoni, facendole allegare nel fascicolo del PM. Al Tribunale di Patti si è proceduto con il rito abbreviato e l'imputato, in sede di dibattimento, si è discolpato da tutte le accuse, riconoscendo solo un episodio. Il GUP Eugenio Aliquo ha invece accolto la tesi dell'accusa e ha condannato l'imputato a due anni di reclusione e senza pena sospesa. In secondo grado è cambiato tutto. La Corte d'Appello di Messina, presieduta da Bruno Sagone, riqualificando i fatti contestati da maltrattamenti aggravati a lesioni semplici, come ha chiesto l'avvocato Muscarà, ha riformato quasi in toto la sentenza di condanna emessa in primo grado, da cui si è passati dai due anni di reclusione a 300 euro di multa.